Quello che è accaduto è che in un collegio dove alle scorse elezioni amministrative 5 Stelle hanno preso il 5%, il che vuol dire che i romani davvero non li volevano vedere, e il mio movimento politico era stato il primo con il 32%, quello che è successo è che il PD, inspiegabilmente, invece di candidare una sua persona, ha candidato Conte. Io semplicemente ho detto, guardate se si candida Conte, mi candido io perché io penso che 5 Stelle a Roma hanno fatto molti danni, gli elettori hanno mostrato di non volerli, è una cosa molto stravagante farlo, ma non è che ho detto vado da Conte e lo sgozzo, ho detto mi candido alle elezioni, le elezioni sono le elezioni, cioè non è che ho detto via Conte dall'universo, ho detto se si candida Conte, siccome la mia linea politica è sempre stata coerentemente, nettamente, contro il Movimento 5 Stelle, per quanto quando Conte era Presidente del Consiglio e fece i lockdown, io lo appoggiai moltissimo, non feci mai una battaglia contro, fu anzi un'opposizione, io credo, costruttiva, facendo proposte. Non lo conosco, non ho rapporti con lui, non ho temi personali, non abbiamo mai fatto nulla né contro né insieme. E tuttavia lì c'è un dato politico, che tu non puoi far rientrare dalla finestra quello che gli elettori hanno messo fuori dalla porta. E la reazione di Conte è una reazione scomposta, perché prima ha detto, ma io non è che non mi candido perché c'è calenda in campo, io non mi candido perché faccio le cose mie. E poi dice, calenda si vuole fare pubblicità, ma io che centro? Si è candidato lui, io non ho fatto niente. Ha parlato anche di... Non è che lo dovevo designare, dovevo semplicemente, come era ovvio... Oppure la mia candidatura. Sì, come si fa in democrazia, che voleva fare una candidatura per acclamazione. Cioè, non funziona così. Io dal primo giorno ho chiarito che io penso che il Movimento 5 Stelle abbia preso in giro circa un terzo degli italiani raccontandogli una marea di balle. E io non faccio alleanza con i 5 Stelle, me ne sono andato dal PD, se non avrei fatto il Ministro e il Sindaco di Roma, se avesse accettato il governo Conte. Penso che Portino sono portatori di disvalori, sono molto trasformisti, è il mio persero personale ovviamente. Dunque non c'è un campo largo che vede me con i 5 Stelle. Oh, il... ... ... Grazie a tutti